Seduta importante quella del Cipe che avviene alla vigilia delle feste ma che premia un importante lavoro di concertazione e di condivisione che abbiamo avuto con il governo per quanto riguarda le infrastrutture e comunque finanziamenti e interventi sulla Toscana. Abbiamo avuto questa comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture relativamente alla Tirrenica che accantona l'ipotesi autostradale a favore invece della realizzazione di un'infrastruttura sempre a quattro corsie con caratteristiche analoghe a quella che già esiste a nord di Grosseto e prevede anche la futura realizzazione da parte di ANAS quindi non ci sarà il pedaggiamento. Ora dopo questo fondamentale passo in avanti aspettiamo approvata la legge di stabilità e messe in disponibilità le risorse che avvenga l'attribuzione per quanto riguarda la realizzazione di circa 300 milioni. Accanto a questo il Cipe ha deliberato anche risorse integrative a favore della regione per quanto riguarda la viabilità regionale, alcuni interventi che si assommano ad altri che saranno realizzati con altre risorse frutto di una rimodulazione che porteranno circa 170 milioni per migliorare, riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità regionale e anche risorse per lo sviluppo economico di 18 milioni e nonché 10 per l'ampliamento dell'ospedale di Prato. Quindi veramente un fine d'anno importante, una collaborazione stretta per la quale ringraziamo ovviamente il governo ma soprattutto queste soluzioni ci fanno guardare al 2018, ai prossimi anni con più fiducia e con la convinzione di poter intervenire per risolvere dei problemi concreti a favore dei nostri territori e delle nostre comunità. Se pensiamo che quella della Tirrenica, per la quale dobbiamo sottolineare anche il finanziamento di 50 milioni per il collegamento Aurelia-Porto di Piombino, si aggiungono anche all'approvazione del piano utilizzo terre del sottoattraversamento di Firenze, che è in grado di far partire i lavori nei prossimi mesi, RFI ci dice entro febbraio e aggiungiamo a questo anche la chiusura positiva della conferenza dei servizi per la realizzazione della terza corsia autostradale della A11. Penso davvero che per infrastrutture fondamentali da lungo attesa e molto importanti per la nostra regione, per il suo sviluppo, per la sua economia e per l'occupazione siamo davvero nella fase cruciale del passaggio dalle parole ai fatti concreti.